video extra ti togliamo col calcetto almeno 1 a 2 sul torneo Meno più! Anche se è meno più! E non la hai pa' di me, vai! Ah, dai, così lì. Ecco la che arriva, avviate! Eh! Stanchissimo! No, adesso... Sono molto arrabbiato e concentrato. mi piace mi spinto ragazzi va bene va bene va bene oh oh braviatissimo mamma mia laga no è che il cavolo è che il cavolo o lo va a che o lo va a che o di mistero è la ragazza mamma mia è la benedetta cavolo esattamente è la bestia è la bestia è la bestia è la bestia con martello in giù non è partendo non è partendo no no via vai va va vai troppo agitato non va bene va bene gialla via la gialla oh cacchio oh cacchio abbassa la guardia abbassa la guardia abbassa la guardia e non c'è più sopra ero qua a fare il trombone e se distratto è sì ragazzi e se distratto è sì ma che è nuovo è il giovannino è il giovannino raga il giovannino è 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 il giovannino no no cos'è ehi no 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 ma vai vedi andare ripete 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 ehi ehi Quanto siamo? 5 a 4 5 a 4 Grazie La blocca, la difensoria Basta Basta Hashtag Hashtag No 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 Che cazzo No Ragia che botta No 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 Maledetta Letta Una 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 Zero Beh non potresti comunque riuscire a recuperare No Scusa No 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 Yeah No No I'm Tick Grazie.